salve questo è il magnifico panorama che potete ammirare dalla certosa di san martino a napoli il maschangio ino piazza del plebiscito eccola il vesuvio in tutto il suo splendore e poi tutto il resto della di napoli porto eccetera eccetera venite con me a fare questa breve passeggiata un po' di Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.